Con un tavolo tecnico sulla riprogrammazione, questo è, però la buona notizia è che tutto dovrebbe concludersi entro un mese, prima delle vacanze estive per avere la rimodulazione dei fondi europei che riguardano la mia regione, che riguardano la regione Lazio, sono risorse importanti che servono per interventi altrettanto significativi che dobbiamo avere sulla regione.